Due seggiori, infatti se no l'attacco qua Ti dico anche l'attacco per l'altra seggiorina lì Sì Però lei si è fatta pesante, va dietro Lei avanti, è tutta pesante E vabbè E' venuta ora di pietà Non è giocato lì, non è giocato E' come scappa, eh Sì, sì, siamo in video Ho fatto due foto Un video adesso Si becchiamo anche il punto Ciao